Il marchio Pialada ritorna prepotentemente in auge grazie al performante e stiloso Prada Phone by LG 3.0, il protagonista della nostra video recensione di oggi. Iniziamo dalla scheda tecnica. Lo smartphone misura 127,5 x 69 x 8,5 mm e, mosso dal sistema operativo Android Gingerbread, monta uno schermo touchscreen capacitivo da 4.3 pollici a risoluzione 800 x 480 pixel e mostra una luminosità di 800 nits. Dotato di Floating Mass Technology, mostra uno spessore di 8,5 mm ed è particolarmente curato il retro con una cover posteriore con marchio Saffiano di Prada. Il processore è un dual core, dual channel e dual memory da 1 GHz. La scheda tecnica prosegue con Wi-Fi, dual band, GPS con bussola, Bluetooth 3.0, fotocamera da 8 megapixel con video recording in full HD, una memoria da 8 GB di cui 6 a disposizione è spandibile fino a 32 GB, una batteria da 1540 mAh e infine l'interfaccia HDMI, DLNA e il chip NFC. Si notano subito un paio di particolari significativi. Il sistema operativo è Android Gingerbread, che non è ancora chiaro quando passerà alla versione 4.0 Ice Cream Sandwich. Il processore inoltre ha la medesima struttura dual core, dual channel e dual memory già vista in LG Optimus 3D. A differenza di tutti gli altri smartphone Android, punta su un aspetto grafico molto particolare. L'interfaccia utente è infatti in benchio nero, una scelta sicuramente elegante che però ogni tanto confonde se si osservano in una rapida occhiata gli indicatori, come quello per la batteria o i pulsanti per il Wi-Fi, Bluetooth, GPS e NFC. Degni di nota gli accessori, gli auricolari stereo con finitura in metallo cromato che sono inclusi nella confezione, un auricolare Bluetooth con il Mark in bella evidenza e un elegante supporto da tavolo che diventa anche un adattatore HDMI. Inoltre c'è una vasta scelta di custodie brandizzate. Notevole l'aspetto estetico dello smartphone, con il retro lavorato in saffiano, con texture gradevole e con un buon grip, dunque con una buona presa, e metallo cromato a incorniciare la fotocamera. Il fronte è pulito e lucido, buona idea la scelta della strada cinesca per proteggere l'ingresso micro USB sulla parte superiore del dispositivo. Infine i pro e contro. Il sistema è veloce e performante. Lo schermo è reattivo e molto comodo per la navigazione. Il processore è veloce per sfruttare applicazioni e giochi. La fotocamera scatta foto più che soddisfacenti e soprattutto molto veloci per vere istantanee. Ottima la qualità dei video, patisce però la scarsa illuminazione naturale. La batteria dura circa un giorno senza troppi patemi e a marce tirate. Per quanto riguardi i contro, lo schermo è molto luminoso, ma con una risoluzione non altissima. I tasti capacitivi nella parte inferiore del fronte si illuminano solo se si tocca lo schermo, oppure se ci si preme sopra e non è il massimo della comodità. Una piccola nota, anzi due. Il marchio Prada e lo stile del telefono a nostro avviso avvicinano più a un pubblico femminile rispetto a quello maschile. Il prezzo è di 599 euro, ma online nei negozi si può trovare anche a circa 450 euro, un prezzo più adatto alla fascia che occupa. Grazie. 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 Grazie.